Il tempo non ha permesso ai turisti di venire a Scilla, però oggi vediamo che c'è molto affusso di persone. Sì, magari oggi il vento si è calmato e sta andando bene. Ieri come è andato? C'è un sacco di persone, però il tempo, nonostante il tempo, però sai, quando c'è questo tempo... Abbiamo lavorato lo stesso. Abbiamo lavorato meno, però con difficoltà, però abbiamo lavorato lo stesso, sì. Oggi c'è una presenza di Milano, Torino, abbiamo sentito altre persone. Sì, sì, anche straniere, molti straniere. Quindi sta ricrescendo Scilla? Sì, 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 penso di sì. Sta confermando anche il boom che ha fatto l'anno scorso. Non mi faccio soffrire. Ma com'è andata ieri, visto il tempo che... Abbiamo lavorato poco. Il tempo è... si è chiuso il fare, era tutto a buio, si è fermata le navi e si lavora male. Ma le presenze c'erano lo stesso? Mettà dell'anno scorso. Oggi vediamo tanta gente qui a Scilla. Meglio oggi che ieri. Gente più tranquilla, non ha fretta. Si lavora meglio? Certo. Puoi servire meglio, puoi dare un prodotto migliore. Con la fretta non gli puoi dare una cosa migliore. Perché ci vuole tempo. Oggi vediamo tante presenze qui a Scilla. E poi cambia qualcosa? Ha cambiato qualcosa per il cattivo tempo? Devo dire che non c'è stata la massa, diciamo, i locali, forse della regione, delle province alte, che non si sono spostati giustamente per il tempo e il forte vento. Però devo dire che nonostante questo abbiamo avuto molte presenze, sia ieri che anche oggi, si può dire che stranieri veri e propri, non solo pendolari, diciamo, turisti pendolari del luogo. Lei è uno sottore turistico alberghiero. Sta andando bene la stagione, si presenta bene la stagione, oltre alla giornata di ieri, per il cattivo tempo. Diciamo che la stagione inizia da ora, inizia con Pasqua. I presupposti sono buoni, abbiamo qualche prenotazione in più rispetto allo scorso anno. Speriamo, in bene, in meglio, che il tempo ci assista, perché qui ora gioca molto il tempo. Il fattore principale, diciamo, è il meteo, perché molti turisti stranieri viaggiano, si spostano, si fermano, in base anche al meteo. Una Scilla che sta crescendo a livello turistico rispetto agli altri anni? Diciamo che il trend è in crescita, non dallo scorso anno, ma dagli ultimi cinque anni. Abbiamo anche dei periodi, però, di che si è abbassato un pochettino durante il periodo invernale rispetto a cinque, dieci anni fa. Però, comunque, sembra che siamo sulla buona strada.